ciao amici oggi ho una bella domanda per voi in base a cosa scegliete la frutta e la verdura quando fate la spesa io scelgo quella che mi piace di più certo ma voglio darvi un altro punto di vista per selezionare gli alimenti e assicurarvi di portare in tavola non solo il gusto ma anche tutti i giusti nutrienti la frutta e la verdura si può scegliere in base al colore ogni colore ha una proprietà perché ogni pigmento non solo colora ma contiene uno specifico principio attivo vediamo quali sono i migliori nutrienti in base al colore da inserire un po tutti i giorni se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video blu e viola sono dati dagli antociani potenti antiossidanti con virtù benefiche contro cancro ictus e patologie cardiache migliorano la memoria e la circolazione aiutano a invecchiare bene i stare in salute parliamo di carote viola fichi scuri melanzane mirtilli blu e neri more ribes neri susine prugne uva nera bianco gli ortaggi bianchi contengono molti principi attivi come allicina amica della pressione del cuore enemica del colesterolo del cancro potassio e selenio che aiutano il sistema nervoso e la salute delle ossa si trovano in banane pere funghi patate aglio scalogno porri cipolle bianche cavolfiori rape bianche finocchi e pastinaca giallo arancio sono i carotenoidi dei beta caroteni che colorano di giallo arancio e riducono anche il rischio di cancro e patologie cardiache il beta carotene convertito in vitamina a mantiene in salute occhi e mucose la frutta giallo arancia contiene anche vitamina c e acido folico parliamo di albicocche arance mandaranci mandarini pompelmo giallo limoni ananas mango meloni papaya pesche gialle zucca carote e peperoni gialli rosso è dato da licopene e antociani antiossidanti protettivi e antitumorali soprattutto per la prostata e anche alleati della salute di cuore e circolazione ecco dove si trovano amarene ciliegie anguria fragole lamponi mele rosse melograno mirtilli rossi ribes rossi uva rossa pompelmo rosa pomodori cavolo rosso cipolle rosse peperoni rossi radicchio rosso rape rosse e ravanelli verde la clorofilla è responsabile del colore verde e di moltissimi benefici riduce il rischio di cancro abbassa la pressione il colesterolo cattivo oltre alla clorofilla i cibi verdi hanno anche l'uteina che è ottima per la vista gli ortaggi verdi sono kiwi uva avocado asparagi zucchine spinaci broccoli verza cavolini di bruxelles cavolo verde carciofi cetrioli lattuga peperoni verdi piselli rucola sedano soncino a me piace l'idea di creare un arcobaleno di diversi colori nel piatto anche a me ma mica ce la faccio sempre quando non è possibile alterno i diversi colori vegetali nei diversi pasti e cerco di avere tutti i colori almeno nei passi della giornata così faccio il pieno di nutrienti sani e amici della salute ogni giorno per vedere tanti altri video consigli come questo basta iscriversi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto mangia sano e vivi meglio